Orion XS, o Orion XS se preferite l'italiano. Questo è il nome finalmente ufficiale dell'ultimo nato in casa Victron Energy. Si tratta di un DC DC Charger, cioè di un caricabatterie da alternatore, dalle caratteristiche molto innovative rispetto ai modelli precedenti. Andiamolo a vedere un po' più nel dettaglio. Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati nel canale del Blog della Vela. Io sono Roberto Minoia e oggi andremo ad analizzare le caratteristiche di questo nuovo prodotto Victron Energy. È un DC DC Charger, alla fine Victron ha deciso, si chiama Orion XS, o Orion XS se preferite l'inglese. Comunque è un DC DC charger che ha delle caratteristiche veramente migliorative rispetto ai precedenti modelli, che vi ricordo erano da 18A o da 50A a 12V. A 24V chiaramente dimezzavano la corrente. Ora, il nuovo modello tra l'altro non è ancora disponibile, oggi siamo in dicembre 2023. I primi esemplari dovevano esserci consegnati i primi di gennaio del 2024, ma proprio due giorni fa abbiamo ricevuto la comunicazione da Victron Energy che c'è stato un ulteriore ritardo e quindi arriveranno la seconda metà di febbraio 2024. Quindi non abbiamo ancora potuto metterci le mani sopra, come si suol dire, ma li abbiamo già visti in anteprima ad Amsterdam in novembre, quando siamo andati al Metz, che è una fiera diciamo molto importante a livello europeo, e Victron in quell'occasione ha esposto per la prima volta i primi modelli e ha comunicato i prezzi e ha dato le date di disponibilità. Quindi io stesso ho potuto toccarlo con mano ad Amsterdam qualche settimana fa e la prima cosa che vi posso dire che mi è rimasta impressa è la dimensione di questo prodotto, che è decisamente più piccolo rispetto al modello precedente, nonostante abbia una potenza doppia, perché si passa dai 360 watt del modello precedente, il più potente dei modelli precedenti, e adesso invece questo nuovo è da 700 watt, cioè 50 ampere a 14 volt. Nonostante questo aumento di potenza, l'altra cosa che si nota subito è l'assenza dello scambiatore di calore sul retro dello chassis. E lo scambiatore di calore che era necessario nella versione precedente, in quanto questa versione, questo modello sviluppava molto calore, quindi la temperatura dello scambiatore di calore saliva fino a 70 gradi, anche l'avevo misurata io con un termometro a raggio infrarossi e ho visto che arrivava a 70 gradi. Non è che succedesse nulla, però ad alcuni clienti dava fastidio questa produzione di calore eccessiva, ritenuta eccessiva. Nel nuovo modello l'efficienza di conversione dell'energia è stata portata a livelli veramente alti. Siamo al 98,5% contro l'85% del modello precedente. Voi capite che la differenza per arrivare al 100% quella è la percentuale dell'energia che viene trasformata in calore. Vi faccio un esempio. Il modello precedente aveva 360 watt, però un'efficienza dell'85%, vuol dire che il 15% di questi 360 watt, cioè circa 50 watt, venivano dissipati in calore. Quindi è come se voi aveste avuto una resistenza da 50 watt che produceva calore, ma questa energia veniva dispersa, diciamo. Mentre invece nel modello attuale, che ha un'efficienza del 98,5%, significa che solamente l'1,5% di questi 700 watt, perché questo è un modello più potente, vengono trasformati in calore. L'1,5% di 700 watt sono circa una decina di watt. Quindi nonostante sia il doppio di potenza, produce un quinto del calore rispetto al modello precedente, meno potente. E questa già di per sé è una cosa veramente migliorativa, no? Come se non bastasse, come vi dicevo prima, anche le dimensioni decisamente più piccole faranno sì che sarà molto più facile trovare un posto dove collocarlo all'interno del sistema Victron. Un'altra innovazione che aspettavamo, o almeno noi distributori, aspettavamo da moltissimo tempo, è la possibilità finalmente di inserire questo prodotto all'interno di un sistema Victron Energy. Infatti, come potete notare in queste fotografie, è presente finalmente una presa VI-Direct, una presa VI-Direct che consente, con un opportuno cavetto, di collegare il DC-DC charger, per esempio a un Cerbo GX. In questo modo, il Cerbo opportunamente configurato, per esempio in un impianto con delle batterie al litio, quando viene opportunamente configurato, sarà in grado di gestire direttamente il DC-DC charger, accendendolo o spegnendolo eventualmente in caso di necessità. Chiaramente, tutti questi aspetti sulla configurazione, non vi preoccupate, la configurazione del sistema la facciamo noi gratuitamente, se venite da noi a chiederci di farvi un progetto e acquistate ovviamente i prodotti da noi. Tra l'altro, parentesi, cerchiamo disperatamente dei clienti professionali, cioè degli installatori che vogliono avvicinarsi al mondo Victron, che vogliono, magari hanno ricevuto delle richieste dai loro clienti, che vogliono avere degli impianti realizzati con i prodotti della Victron Energy e loro non sanno come fare magari. Se non sapete come fare, se non conoscete i prodotti Victron Energy, se magari non avete neanche mai fatto un impianto fatto come si deve con le batterie al litio, chiamateci e entrate in contatto con noi. Noi all'inizio vi daremo tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, vi facciamo dei corsi, vi aiutiamo nei primi progetti che farete, vi aiutiamo nella fase di installazione, nella fase di configurazione e quindi vi guideremo passo passo fino a quando non sarete completamente autonomi. Chiusa parentesi. Torniamo al fatto che questo nuovo prodotto, questo nuovo Orion XS, può inserirsi completamente all'interno del sistema Victron Energy. Che significa questo? Significa non solo che potrò vedere sul video per esempio del Cerbo GX, potrò vedere la corrente che produce l'alternatore che sta andando a caricare le batterie. Non vuol dire solo questo, ma vuol dire per esempio che configurando opportunamente il sistema sarà possibile far sì che l'Orion XS possa compensare la caduta di tensione lungo il cavo che lo collega alla batteria che sta caricando. Questo sembra un aspetto da niente, in realtà è molto importante, perché avendo il controllo completo della tensione rilevata sui poli della batteria, il caricabatterie può funzionare decisamente meglio e quindi caricare anche più velocemente la batteria. Questo vale non solo se voi avete delle batterie al litio, ma anche se avete, anzi forse è ancora più importante, se avete delle batterie al piombo, delle batterie a GM, delle batterie al gel, insomma batterie con la tecnologia piombo. Il prodotto è stato annunciato, sappiamo i prezzi al pubblico che sono abbastanza interessanti, quindi non sono alti come si poteva pensare inizialmente, però non ce l'abbiamo fisicamente ancora. I primi pezzi sono in consegna nella seconda metà di febbraio 2024, lo stiamo aspettando con ansia, i nostri installatori ne hanno già ordinati moltissimi pezzi e quindi vi consiglio, se avete intenzione di acquistarne qualcuno, di farlo subito, di prenotare, perché poi all'inizio, almeno in fase iniziale, non ne arriveranno tantissimi. La produzione di Victron sarà a regime probabilmente nella seconda metà del 2024, quindi se dovete comprarlo, compratelo subito, fra poco vi darò anche un codice sconto, stiamo facendo un'offerta promozionale per festeggiare il lancio. Altra caratteristica interessante, che quasi mi stavo dimenticando, ma in realtà è abbastanza importante, è la possibilità di impostare la corrente massima di uscita, cioè questo prodotto può uscire al massimo, andare a caricare la vostra batteria al massimo con 50 A di corrente, ma nei casi particolari voi potrete ridurre questa corrente massima al valore che volete voi, 10, 15, 17, 35 A. E voi mi direte, ma Roberto, scusa, io compro un modello da 50 A perché voglio tanta corrente, no? Cioè, che senso ha ridurla? Beh, ci sono alcuni casi in cui potrebbe essere utile ridurre la corrente. Per esempio, se ho un alternatore abbastanza potente, ma non così potente da poter erogare in maniera continuativa 100 A, io posso acquistare due di questi DC DC Charger, metterli in parallelo, però farli lavorare a 40 A ciascuno, quindi imposto 40 A su uno, 40 A sull'altro e l'alternatore dovrà erogare al massimo 80 A di corrente. Questo, per esempio, potrebbe essere un'ipotesi. Un'altra ipotesi che io sperimento quasi quotidianamente con i miei clienti, che mi chiamano e mi dicono, io adesso ho delle batterie al piombo, magari ho una batteria da, non so, 150 A a GM, 150 A per ora, scusate, a GM. Però l'anno prossimo conto di passare al litio, no? Allora, il problema della batteria al piombo è che non si può caricare con correnti elevatissime, perché se no si rovina una batteria da 150 A per ora, possiamo caricarla al massimo, se è buona, con 30 A, ma non di più. Quindi posso comprare il DC DC Charger da 50 A, ma impostarlo a 30 A, e la batteria avrà un caricabatterie da 30 A che la carica. Poi, il giorno che dovessi passare alle batterie al litio, magari gli metto anche solo una batteria da 100 A per ora, però quella batteria, nonostante sia più piccola, può accettare correnti di carica più elevate. Quindi a quel punto potrò togliere questo limite e passare a 50 A. Ecco, queste sono due delle ipotesi, due delle possibilità che mi vengono in mente, ma sicuramente ce ne sono tante altre a cui adesso non penso nemmeno. Allora, se volete acquistare o prenotare meglio questo nuovo prodotto, che indicativamente, ripeto, vi verrà consegnato la seconda metà di febbraio 2024, potete andare direttamente sulla pagina, sul sito negozioeco.com e dopo aver fatto l'acquisto, inserite nel carrello, visualizzate il carrello ed inserite nel carrello questo buono sconto che vedete in sovrimpressione qui sotto. Oppure, in alternativa, se state guardando dalla tv questo video, potete inquadrare questo QR code con la vostra telecamera del cellulare e andate direttamente sulla pagina dove, appunto, vedrete già il prodotto con lo sconto, perché in questo caso il buono sconto, il codice sconto, viene applicato automaticamente. Se invece state usando un computer, un cellulare o qualsiasi altra cosa, potete andare poi nella descrizione qua sotto dove vi do tutte le istruzioni. Il codice sconto non ve lo metto, così vi obbligo a guardare questo video fino in fondo. Però diciamo che avrete tutte le informazioni necessarie. Ricordatevi, se conoscete qualche installatore che vuole avvicinarsi al mondo Victron, mettetelo in contatto con noi. O se siete installatori, chiamateci subito. Io vi ho dato il codice sconto, però voi, in cambio, seguite il canale e mettete un like. Va bene? D'accordo? Facciamo questo patto? Perfetto! Ci vediamo alla prossima, ragazzi! Ciao a tutti!